Qualcuno era comunista perché si sentiva vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Quando ascolto questo monologo, qualcuno era comunista, questa frase è quella che più mi sta a cuore, un po' per l'aspetto ideologico, un po' anche per la fede che porto, diciamo, che è questo prendersi cura. Ha deciso di citare Giorgio Gaber, Cristiano Rossi, preside maestro, per annunciare la sua candidatura nel Collegio Uninominale di Arezzo per la coalizione di Sinistra Unione Popolare. Maestro dirigente scolastico, musicista, presidente della fraternità Federico Bindi, Cristiano Rossi, 48enne, ha scelto di aderire al progetto di Luigi De Magistris, sostenuto da Rifondazione Comunista Sinistra Europea, Potere al Popolo, Manifesta e Dema. Questa associazione, appunto, di partiti e di associazioni rappresenta sicuramente un'occasione per proporre dei temi che per la sinistra e per la società civile sono particolarmente importanti. Il pacifismo, la tutela dei beni comuni, un salario dignitoso per tutti, l'attenzione all'ambiente. Questi sono temi su cui crediamo molto e ci sentiamo molto radicali nel portare avanti queste posizioni. Ecco, molti la conoscono come il preside maestro. Quale può essere il suo contributo in questo senso? Io sto cercando di parlare un linguaggio forse diverso da quello che i professionisti della politica stanno utilizzando. Mi sento molto educatore e anche in politica credo che utilizzare un linguaggio che sia non tanto educato quanto parlare, diciamo, avere come obiettivo il prendersi cura degli altri sia un elemento che penso che può fare la differenza. Perlomeno può cambiare il modo anche di relazionarsi alla politica, di ridare un po' di dignità a questo segmento che spesso viene bistrattato, giustamente perché spesso diamo anche ragione alle persone a bistrattarlo. Infatti sicuramente la sfida più importante sarà quella all'astenzionismo. Sì, noi infatti ci rivolgiamo essenzialmente a quelle persone che sono sfiduciate nei confronti della politica, che hanno perso fiducia e molti sono di sinistra, sono persone che hanno perso fiducia nei partiti che prima li rappresentavano. Noi stiamo cercando proprio di ridare loro fiducia, di ridare loro speranze e ci rivolgiamo a tutte queste donne e a questi uomini perché il 25 settembre possano avere almeno nel nostro progetto, che è un progetto che ha come obiettivo il diritto alla felicità, che sembra qualcosa di utopico, ma in realtà è molto concreto perché significa avere a cuore il benessere delle persone, la serenità delle famiglie perché possano arrivare alla fine del mese senza quest'ansia di prezzi in continuamento, di bollette quintuplicate. Quindi noi abbiamo questo proposito, questa visione e cercheremo di proporla e di cambiare anche se si vuole il punto di vista rispetto a certe questioni.